Le stime di crescita di fatturato del 20% che Cromavis ha annunciato per i prossimi tre anni si scontrano con le criticità che hanno portato a lasciare a casa anche a fine febbraio una ventina di lavoratori. L'azienda cosmetica di Vaiano Cremasco, in via di trasferimento nel grosso polo in fase di completamento a Doffanengo, ora sta cercando di mediare con i sindacati, anche se l'ultimo incontro, il 22 febbraio scorso, non ha portato a soluzioni condivise e certe. Ci sono ancora punti da chiarire e decisioni da prendere. Sulla carta dal primo marzo, cioè da oggi, dovevano essere attivati 15 nuovi contratti di somministrazione da recuperare tra i 20 lasciati a casa recentemente e 5 in staff leasing recuperati dagli 8 rapporti di lavoro cessati a fine gennaio per un totale di 20 nuovi ingressi. Le risposte che ci sono state date dall'impresa nell'ultimo incontro che abbiamo fatto per noi non sono soddisfacenti e più che altro non sono risolutive dei problemi che erano sul tavolo. Prevalentemente per la questione legata ai lavoratori sospesi a gennaio e i lavoratori sospesi a febbraio, quindi non ci sono state date nessuna garanzia di una ricollocazione di questi lavoratori. Sul tavolo poi il premio di risultato cui l'azienda ha aggiunto un importo in forma di welfare di 100 euro ma che ai sindacati risulta ancora insufficiente. È il ricorso sistematico agli straordinari per cui Cromavis ha prospettato una nuova articolazione dei turni. Per quanto riguarda il premio di risultato, l'offerta che l'azienda ci ha proposto al tavolo di 100 euro per noi è ancora insufficiente quindi dobbiamo necessariamente rivedere l'impresa per capire se sono cambiate un po' le disponibilità. Per quanto riguarda la riduzione dello straordinario, l'azienda ci ha presentato una proposta di introduzione di un nuovo turno di lavoro con una nuova squadra di lavoro distribuita su sei giorni alla settimana che però pare di capire che trova qualche difficoltà nel reperire le persone che possono dare disponibilità a collocarsi nei sei giorni della settimana. Avremo un prossimo incontro e abbiamo anche una riunione con la RSU per definire un po' i passaggi e capire se le risposte dell'azienda non sono particolarmente soddisfacenti quali iniziative mettere in campo. Grazie a tutti.